e qui lungo il cammino ci sono questi 4 5 sì in effetti è così guarda una vediamo un po questa è già matura ma guarda quanti alberi di fico veramente incredibile qua no sono della strada non stiamo un mettere diciamo che un cammino dove si può avere dell'acqua ma la frutta non manca ottobre ma qui anche a novembre perché non sono molto più avanti vai dritto guardate un attimino quanto è alto qui scorrono i fiumi sarà da visitare d'inverno qui passa il fiume veramente è certo che questi albighi ora vai dritto poi tieni la destra un altro casello qua abbiamo vero ma non mancano anche qui i mandorli guardate quante quante ce ne sono ancora si può fare tranquillamente la provvista proviamo proviamo a a verificare se sono fa in fretta perché potrebbe passare il treno quindi abbiamo fichi e abbiamo mandorle non c'è problema ma soprattutto mandorle che vi danno le energie necessarie per continuare il cammino diciamo che non c'è bisogno di portare panini roba del genere acqua e quanta acqua diciamo che se partite da gestori verso l'acconi o viceversa prendi la prossima svolta a destra perché per lo più trovate la discesa invece della salita allora da l'acconi portatevi mezzo litro una bottiglietta e poi chiaramente una volta arrivati a genoni ve ne portate un'altra mezza bottiglietta d'acqua e ora svolta a destra sul sentiero borraccia da litro è più che sufficiente le more le pere le mandorle e anche i fichi d'india ci sono quindi bisogna attrezzarsi sempre segui questa strada per 250 metri ecco qua che cosa abbiamo qua abbiamo qualcosa di curioso un po di qualcuno si è divertito qua perfetto la 197 i monti di isili noi domani è appunto affronteremo tutto questo tratto qua anche quello sarà una sorta di prima volta perché da da santa maria siamo stati santa elia siamo stati ma non abbiamo mai affrontato il cammino per raggiungere questi punti qualcuno che ha piacere di salutare i pellegrini facciamo anche noi qui il paesaggio di sonoro e disegnato dal dal suono di questi di questi campanacci di queste pecorelle bebe ed eccoci arrivati alla prima delle gallerie non sapevamo neanche dell'esistenza di questa galleria dismessa da un sacco di tempo vediamo un po se l'effetto fumo perché segui questa strada per 1,6 chilometri quindi abbiamo però un chilometro e mezzo pressa poco per arrivare al paese hanno dovuto beh centinaio di metri ecco molto bene eccoci qua caspita caspita tipo quelle di isili tipo quelle di isili venite qui che facciamo una bella foto allora vediamo un attimino se riusciamo a realizzare una foto mi sa proprio di no allora qualcuno prende e fai fai un giro con noi e cioè un giro così ci riprendi poi eccoci qua l'unica galleria che abbiamo di questo tratto dismesso del secolo ventesimo dove da isili si andava fino a san muri e forse lo affrontiamo è freschissimo proviamo non ci è piaciuta il passaggio riprendendo un attimino picchino guarda come le affunicate queste pietre e è proprio sono piattate a mondo e quindi si il binario stava piaccendo sono qua in una cittadina che si trovano i pressi di isili che abbiamo fatto con il sindaco lunga filia e poi appunto i 12 e qua in caso di nella galleria di isili si sta Il segnale GPS è debole, la registrazione continua, ma la tua posizione sulla mappa potrebbe non essere precisa. Sei fuori traccia. La ripianificazione automatica è disattivata. Controlla la mappa. Il tour si trova 100 metri dietro di te. Il tour si trova ora davanti a te. Preparati a svoltare a destra. Sì, hai riconosciuto che abbiamo attraversato una galleria. Sei tornato sul tour. La navigazione continua. Perfetto.